Ciao designer, sono Caterina. In questo video voglio parlarvi un po' di Yves Saint Laurent, qual è stata la sua storia e quali sono stati i suoi capi di abbigliamento più iconici. Allora, Pierre Berger diceva Chanel ha dato la libertà alle donne, Yves Saint Laurent ha dato il loro potere. Allora, questa sicuramente è una delle frasi che rispecchia appieno quella che è stata l'idea creativa di Yves Saint Laurent, non solo da un punto di vista dell'abito, quindi creare forme che liberassero il corpo, che lo rendessero agile nel muoversi, ma anche proprio da un punto di vista sociale. Quindi, indossando gli abiti di Yves Saint Laurent, la donna poteva sentirsi sicura di sé, forte e alla pari dell'uomo, quindi sia da un punto di vista dell'abito che da un punto di vista sociale. Andiamo a vedere però più nel dettaglio gli eventi della sua vita. Allora, Yves Saint Laurent nasce e cresce in Algeria, però poi spinto dalla passione per la moda, a 17 anni decide di andare a Parigi, dove partecipa a uno dei contest più famosi dell'epoca, il segretariato della lana, e vince nella categoria abiti. Tra i giudici c'erano Givenchy e Dior. Inoltre, piccola curiosità, il vincitore della categoria sopra abiti fu un giovanissimo Karl Hagerfeld. Però comunque, tornando a Yves Saint Laurent, da qui gli eventi diventarono ancora più positivi, perché nel 1955 Dior rimane impressionato dalla sua creatività e lo vuole come suo assistente. Quindi, non appena il giovane stilista entra nella Maison Dior, si occupa di accessori che, diciamo, occupavano più un ruolo secondario rispetto ad oggi. Tuttavia, con la sua dedizione, la sua passione, passo dopo passo, riesce a... il suo contributo riesce a essere sempre più presente all'interno delle collezioni, fino a che, purtroppo, nel 1957 Dior muore improvvisamente e, nonostante la giovanità a 21 anni, il Saint Laurent viene nominato direttore creativo della Maison. Così, nel 1958, il giovane stilista presenta quella che è la sua prima collezione. Il tema principale è la linea Trapezio, che fu un successo enorme. Chiaramente era caratterizzato da questa linea che rendeva, non segnava più il punto vita e la collezione era caratterizzata da colori più scuri, neutri, che richiamavano un po' la palette solita dell'abbigliamento maschile. Quindi, la sua linea, il colore, lo stile in generale, segna quella che è una spaccatura netta rispetto al suo predecessore. Più avanti nelle collezioni, il Saint Laurent sviluppa sempre maggiormente una sorta di audacia, quindi, piano piano, lascia avanzare quello che è la sua visione artistica e si allontana sempre di più da quella che era la visione, la caratterizzazione dello stile di Dior. Fino a che, nel 1960, venne chiamato per prestare servizio militare in Algeria. Questo evento, purtroppo, gli causò diversi traumi psicologici e fino ad arrivare a diversi esaurimenti nervosi. Di conseguenza, data la sua instabilità mentale, la Maison d'Or decide di rimpiazzarlo. Ed è qui che entra in scena una delle figure più importanti nella storia di Saint Laurent, sia personale che professionale. Stiamo parlando di Pierre Berger, che sostiene in questo duro momento lo stilista e decide di aiutarlo nel 1962, facendo causa al marchio, e con i soldi guadagnati decide di aprire e fondare la sua personale Maison. Così, nel 1962, Saint Laurent presenta la sua collezione d'esordio. Il picot è sicuramente uno dei capi più emblematici della collezione, che non solo viene caratterizzato da questo spirito moderno e innovatore dello stilista, ma rappresenta quello che è lo stile creativo di Saint Laurent, quindi la sua chiave di lettura, ossia stiamo parlando di riprendere abiti dal guardarobbo maschile e trasporli sul corpo femminile. Il successo però arrivò in maniera definitiva nel 1965 con la collezione Mondrian, dove Saint Laurent si ispira alle opere del pittore, e questo fa sì che il suo marchio venga non solo amato e riconosciuto, ma diventa proprio iconico in tutto il mondo. L'arte per il Saint Laurent ha sempre giocato un ruolo fondamentale all'interno delle sue sfilate e come tema centrale, quindi come fonte di ispirazione. L'anno successivo infatti decide di realizzare una collezione dedicata alla pop art, quindi si ispira anche ad Andy Warhol, passando poi anche per Picasso e nel 1988 dedica anche delle giacche con i girasoli che si ispirano volutamente a Van Gogh, quindi l'arte ha sempre un ruolo, cioè sempre presente all'interno della vita dello stilista. però gli abiti più iconici devono ancora arrivare, perché infatti nel 1966 il Saint Laurent inaugura la sua boutique Rivgouche e presenta la sua prima collezione di prêt-à-porter, quindi decide di allargare la propria clientela e di rivolgersi anche a un pubblico più vasto. E così esce uno dei capi più iconici sia in versione di prêt-à-porter che in versione au couture, stiamo parlando del primo smoking da donna che fece molto scandalo all'epoca perché non era mai stato messo addosso a un corpo femminile e per il Saint Laurent questo era proprio l'emblema, il simbolo di parità di genere. Praticamente lo stilista dà voce a quella che è stata una nuova necessità da parte della donna, ossia sentirsi alla pari dell'uomo, quindi sentirsi libera, indipendente, forte. Successivamente nel 1968 il Saint Laurent crea quello che sarà il nude look, ossia la donna per la prima volta in passerella veste degli abiti trasparenti, quindi mostra il seno e il capezzolo, ma non come simbolo di scandalo, sdegno, ma vuole rappresentare la dignità del corpo femminile, quindi alla pari di quello maschile, simbolo di libertà, di fiducia in se stessi. Altri capi iconici di fine anni sessanta sono sicuramente la sariana e la tuta. Inoltre, piccola curiosità, il Saint Laurent ha inventato per la donna quelli che oggi vengono chiamati pantaloni a palazzo. Un'altra collezione molto importante da ricordare è quella bambara, ossia dove il Saint Laurent si prende come ispirazione l'Africa del Nord e il Marocco. Infatti lui è nato, cresciuto in Algeria, ha passato molto tempo anche con Pierre Berger a creare le sue collezioni di moda, quindi è sempre stato un ambiente, un luogo molto caro allo stilista ed è proprio questo luogo che dà vita alla sua collezione del 1967 e infatti il Saint Laurent si classifica come uno dei primi stilisti al mondo a parlare di Africa, del tema Africa e per la prima volta sulle sue passerelle sfilano delle modelle di colore. Tra alti e bassi momenti di follia ma anche di genio, il Saint Laurent è senza dubbio uno degli stilisti più iconici del XX secolo e anche XXI secolo. Infatti nel 2002 il Saint Laurent decide di lasciare la Maison e la direzione artistica viene affidata a Tom Ford, dopodiché a Stefano Pilati e di Slimane fino ad arrivare ad Anthony Vaccarello. Al giorno d'oggi esistono due musei dedicati a Saint Laurent, una a Parigi e una a Marrakesh che sono entrambe città simbolo del suo percorso, della sua visione e che appunto lo hanno accompagnato durante la sua vita. Se il video ti è piaciuto o ti è stato utile supportami con un like e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Io qui sotto ti ricordo che nell'info box ho lasciato il link al mio corso di moda dove spiego non solo come disegnare figurini ma anche come realizzare collezioni. Noi ci vediamo al prossimo video!